Anche gli animaletti microscopici hanno necessità di liberarsi di quello che resta dei cibi digeriti e lo fanno portandoli all'esterno con una serie di coordinati movimenti. Un rotifero Brachionus si sta qui liberando delle feci. Qui è una floscularia che lancia all'esterno i suoi escrementi. E' alquanto singolare il fatto che gli escrementi vengano proiettati sempre in un'unica direzione, per cui li vediamo tutti raccolti in uno stesso posto. Qui ho un'anellide con gli escrementi appena emissi dall'intestino. Grazie. 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 Grazie.